La storia nasce con Francesco Moretti che era lo zio del bisnonno della mia mamma e Francesco Moretti era un uomo conosciuto qui a Perugia, fu direttore dell'Accademia di Belle Arti che era importante qui a Perugia, fu anche insegnante prima ovviamente, poi fu direttore della allora Pinacoteca, oggi Galleria Nazionale dell'Umbria e comunque era considerato, era sempre preso in considerazione per delle critiche d'arte, comunque nei consigli d'arte anche di scavi per esempio, quindi noi abbiamo un archivio storico che vedete anche lì in quelle scatole che racchiude tutte queste notizie che vi sto dicendo dal 1843, quindi da quando Francesco Moretti comunque era giovane perché lui è nato nel 1833, fino alle zie Rosa e Cecilia, chi sono queste zie? Sono le figlie di Lodovico Caselli che era il nipote di Francesco Moretti, quindi Francesco Moretti lavorò con Lodovico Caselli, quindi il nome studio Moretti Caselli viene da loro due, Lodovico Caselli ebbe cinque figli, due dei quali continuarono la nostra tradizione e Rosa e Cecilia poi hanno insegnato a mia mamma e mia mamma ha insegnato a me. Ecco qui si conclude là per ora, poi vedremo, vedremo, adesso io ho questa bimba di nove mesi, il mio compagno non è molto felice di pensare che farà questo mestiere, sappiamo bene perché l'artigianato, l'arte è artigianato, non è facile. Vai di là mamma che adesso mettiamo la carta carbone così, poi passiamo i semi, mettiamola un po' più su qui, perché almeno mi sta più fermo. Tanto non c'abbiamo il seno. Allora, dopo facciamoli arrivare fino in fondo perché mi sa che la riga arriva abbastanza in fondo al cartone. Poi quando purtroppo dipingeremo il vetro, il vetro andrà cotto e quindi non li potremo più numerare, sennò rimane il segno del numero e quindi ritrovarli poi quando una vetrata è anche più grande di questa, è complicatissimo. No, non c'è un fiore, è un... Scusa, qui c'è il contorno, perché fa così questo bocco, questo... Ah, tu dici questo è come un fiore in più intorno al... Eh, vedi, no, lì c'è... Secondo me il vestito che è attaccato, la parte qui è attaccata, come se fossero due... ripreso sotto questo cerchio di fiori. Molte persone che fanno le trache non fanno questo passaggio dei cartoni, dei cartoncini, delle tessere di carta ai quali poi corrisponderanno i vetri. Tagliano come facevano le mie antenate direttamente su questo segno, un pochino più scarso perché poi qua andrà la trafila di piombo. Però è molto più preciso questo passaggio, rende tutto più preciso. E quindi anche se è un passaggio che allunga i tempi, però ci accorcia... ci dà della precisione e del risparmio sul vetro che costa tantissimo. Sì, non voglio che stia davanti alla televisione. Questo disegno abbiamo fatto tutto guardando il telaio perché dobbiamo prendere... dopo ci deve rientrare il pannello. È diviso, sarà diviso in due pannelli perché così la vetrata è montabile più facilmente e trasportabile soprattutto. La cosa più difficile di questo lavoro sono ritrovare i pezzi quando la vetrata è più grande di questo e sono piccoli piccoli, ma più che difficile è noioso, ma proprio difficile. la pittura con lo stile del Moretti e la legatura piombo. Nel disegno realistico aveva bisogno di un modello e quindi si mettevano spesso in posa i modelli, ma fermarlo con l'immagine sicuramente facilita il lavoro e poi dopo... loro usavano le lastre fotografiche negativi di una volta erano le lastre fotografiche. Lì c'è un esempio che si è rotto, però l'abbiamo messo lì. E quindi dalla lastra fotografica si ricava la fotografia. La lastra veniva messa in questo proiettore, si proiettava l'immagine ingrandendola, quindi secondo quanto uno voleva grande la vetrata e quindi si poteva fare il contorno dell'immagine. Vado... 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 E uno... Sicuramente qui tecnologia poca, tutto molto a mano. E qua entriamo nella stanza principale. In una delle due stanze principali. Adesso sto tagliando il cartone con queste forbici particolari che sono a lama doppia sotto, che permettono di considerare lo spessore del piombo che noi abbiamo scelto. Come se il piombo stesse qui in mezzo, capito? E viene considerato questo spessore. Quindi il prossimo passaggio sarà... Tagliare i vetri... facendoli corrispondere a questi cartoni. Se tu parti da un vetro verde, per dire... Adesso prendo un vetro verde, no? Un verde forte, aspetta... E qui voglio fare un paesaggio. Mi si vedrà una casa verde. Possiamo fare anche questo tipo di scelta. Però se invece vogliamo far vedere tutti i colori, allora dobbiamo partire da un vetro bianco. Che vuol dire questo? Che il colore del vetro predomina sempre sul colore pittura. Quindi se io metto qui un giallo, non si cancellerà il colore del vetro. E quindi per avere la visione chiara del giallo, il verde, il blu, perfetta, devo partire da un bianco. E quindi la beata colomba noi la faremo tutta su un vetro bianco. Riportando il colore. Riportando il colore dipinto. E lei adesso sta sistemando tutte le tessere tagliate con le forbici a lama doppia. Sembra facile, ma anche quando facevo i corsi, alle ragazze. Ai ragazzi. Un po' si stufavano. Perché vengono i crampi alla mano che deve leggere il cartone. E il vetro è quello antico, quello dei miei antenati. avevano altre possibilità e c'era molto più commercio di vetro. Adesso per me è più difficile perché mi stanno chiudendo tutte le rivendite che erano qui in Italia che io conoscevo. Perché non conviene più produrre vetro artistico. Questa stanza racchiude anche un pochino la storia di questa casa. Perché se vedete gli archi, ricordano anche la sala dei notari del Palazzo dei Priori. Perché questa è una casa del 1400. È la casa dei Baglioni. Papa Paolo III, sapete che costruì la Rocca Paolina sulle case dei Baglioni. E la costruì nel 1540 perché questi Baglioni erano diciamo sempre in lotta con il Papa. E allora lui per dimostrare la sua potenza distrusse le loro case e costruì sopra la Rocca Paolina. Questa era fuori un pochino dal progetto e quindi è rimasta intatta. Allora qua vedete un po' di tutto. In genere il gioco che faccio con le scuole è che vi colpisce. Un po' è quello che ho detto prima. C'era la casa di sopra e bottega di sotto. Quindi questo legame casa-bottega portava anche poi portare gli oggetti di casa nel laboratorio. La carrozzina era della mia nonna. Poi ci volevamo mettere anche la mia bimba Sofia per fare almeno una foto. ma poi era talmente impolverata. I mandolini e le chitarre perché Lodovico Caselli faceva parte dell'associazione dei mandolinisti. Cioè sarebbero questi due pezzi qua da farci. Questo e questo. Per cercare una base più tranquilla. Ma non ce l'abbiamo più tranquilla. poi dopo va in alto in alto. Quindi l'importante è che l'altro verde che scegliamo non ci stia bene perché sennò viene fuori questo. Quanto lo faccio vedere laggiù. Ma no no, alzata è più leggero eh. Già lo vedo. Questo è un vetro soffiato. E' uno di quelli più costosi. le curve con queste forbici sono facile. un pozzog puede continuare per fare l'attraussante o additive di soldati. la installa. Allora. Ino i cili. La installa. L' trigger possibilità e questo è un bel blu se vuole Adesso comunque ci sono le controvetrate, anche isotermiche, quindi comunque la protezione è maggiore, sicuramente Moretti aveva iniziato a fare le controvetrate mettendo dei pannelli sabbiati sabbiati perché lui amava dare più corpo e colore alla vetrata dal dentro e quindi fuori metteva questi pannelli sabbiati che facevano da protezione C'è questo, ma questo è scurissimo No, questo, però ci starebbe anche bene, non mi sa Infatti la miso la foto E però c'è il blu, di quanto c'è il blu? Sì, è un po' scuro però No, ma poi dopo l'arancione è troppo chiaro, partiamo da due basi troppo diverse Questo è il bozzetto, prima di morire lo fece Lodovico Caselli, una delle poche opere firmate da solo perché comunque se no in genere firmavano sempre Francesco Moretti e Lodovico Dopo ci sarà la fase della pittura, tre, quattro, barra, quattro cotture Trafilatura, mastice E poi basta Proprio appunto per risparmiare il più possibile li incastriamo qua Se uno non avesse fatto i cartoni doveva fare pezzo per pezzo Ecco perché dico che così uno ottimizza e quindi risparmia Lo scopo del nostro lavoro è risparmiare il più possibile perché i materiali sono costosissimi No, io a Sofia insegnerò sicuramente a vivere se poi lei è portata perché poi ognuno ha la sua predisposizione Però è anche vero che io per esempio tutto meno che questo avrei pensato di fare perché rispetto a mia sorella ero molto meno artistica perché manuale sì, io intendo ad aggiustare le cose Invece mia sorella è molto più artistica magari di me nel senso che bellissimi disegni da piccola e quindi io ho imparato lavorando studiando e con l'esperienza e guardando la mamma ho fatto dei corsi sono andata a fare un'esperienza a Milano ho fatto un corso di nudo molto bello all'Accademia che adesso non lo fanno più all'Accademia delle Belle Arti di Perugia però in realtà quello che mi ha insegnato tutto è stata la mamma A Sofia comunque se le piacerà come facevo io d'estate le insegnerò a fare qualcosa è un mestiere che comunque da soli si fa male anche solo per tenere una riga come hai visto perché io l'altro giorno per farlo da solo che non c'era una mamma mi si spostava in quella e la riga mi veniva storta poi vi volevo far vedere l'armatura e le spade che anche lì le avevano comprato proprio per fare una vetrata e servivano da modello lì l'armatura la vedete sulla foto qui dei modelli lì Grazie. Se non si romperà la rastra saremo già fortunati. Devo trovare le vie di fuga. E qui penso che questa sia la migliore. Ormai sono partita e quando uno parte, parte. Eccola. Questo è un vetro buono. Vediamo ancora. Eccola. E' partita. E' partita. Allora noi la dirigiamo. E' partita qui. Siccome tanto quello me l'ha fregato. Facciamo così sperando di salvare questa parte. Di prenderla. Vediamo eh. Non l'ho presa. Allora questo. E questo. Praticamente è questo che abbiamo. Però forse tirandolo su. Non lo so se ci riusciremo a farlo in tre. Una cosa importante è togliere le schegge da sotto. Qua già prendo una linea che dovrò fare. Adesso qua c'è tutto l'alcol. Quindi un po' mi scivola meno. Questa è dritta. Posso fare anche così. Così viene molto più dritta. Sulle curve. Adesso questa è abbastanza morbida. Però ci avvicino piano piano. Perché se no rischio. Mi si rompa il vetro. Allora. Ognuno ha i suoi metodi di taglio. Però bisogna allentare le tensioni. Che ci sono nel. Nel vetro. Allora. Questo. Si prende una pinza. Con uno straccio. Si mette perpendicolare al taglio. E si rompe. Ma erano più fratelli. Abbiamo scoperto poi nei censimenti. Che erano più fratelli. Irene portò avanti la generazione. Irene era anche lei un'artista. Facevamo molti ricami. Ebbe dei premi per dei ricami. Irene fece l'odovico. Lodovico ebbe in realtà cinque figli. Qui dritto. Un po' mi allontano. Perché qui c'è una curva non simpaticissima. È meglio farla con un altro tipo di pinza. La stacco questo. E quindi Rosa e Cecilia hanno portato avanti lo studio. E Maria la generazione. Quindi questa è la mia nonna. Quella di 95 anni. Che mantiene tutto questo. Anna Matilda la mia mamma. E Maddalena. E' un gare qui. Eh, con Sofia. Va regolato sullo spessore che ho del vetro. Ancora non è preciso. E adesso ci sono curve peggiori. Mister Iton voleva rubarci un po' di idee per costruire un cimitero, il Forest Lawn Memorial Park. Che è vicino alla Los Angeles Glendale. La vetrata fatta così può piacere o no? Il lavoro che c'è e la bravura pittorica non si può togliere, no? Di tutti quanti, da Francesco alle zie. Dopo è ovvio che io magari ho a oggi che siamo abituati poi più a linee schematiche, moderne, magari non sceglierei una cosa del genere. Quindi mangiucchio il vetro in questa maniera fino ad arrivare al segno per cercare di non rompere il vetro sulla curva. In questa maniera o con le pinze. Questo è un vetro bianco sabbiato perché il verso della nostra vetrata sarà poi questo, dove noi dipingeremo. E gli altri vetri colorati li dovremmo sabbiare. Questo lo vendono anche già sabbiato e quindi noi, volendo ottimizzare il lavoro, l'abbiamo già comprato sabbiato. E allora lo dobbiamo tagliare dal verso opposto, dalla parte liscia, ma poi il verso dove dipingeremo, quindi il dritto, sarà questo. Lo ricerchiamo. Vediamo che sia perfetto. La mia mamma mi odia in questi casi perché io anche una puntina la voglio vedere perfetto. Allora, la vetrata è grande, 40 metri quadrati. Questa è la foto dell'epoca, quindi è molto sbiadita. I colori sono quelli, sono molto più vivaci. Quel Cristo è lì perché si è rotto in cottura tre volte. Il Giuda, per esempio, si è rotto cinque volte. Quindi durante la lavorazione capita che si rompa il vetro. Quindi questo disegno con le sagome, con le forme, bisogna metterlo in verticale. In realtà la funzione della scena non è proprio il separare un pezzo dall'altro e quindi considerare, dire, vabbè, lo vedo come se ci fosse il piovo. È proprio vederla nell'insieme tutta unita. Ecco, lo scopo è vedere la vetrata unita. Allora, è un po' simile all'acquarello come tecnica, purtroppo c'è anche la cottura da considerare. E poi il fattore luce, quindi quando lavori se cambia la luce cambia molto. E poi la reazione dei colori, non è che noi cuciamo, come fai quando fai le prove di colore, o il marrone, o il rosa, o il verde, li metti insieme comunque, quindi potrebbe anche reagire in una maniera che non ti aspetti. Quindi ci vuole molto. Questa era finita e si è rotta la terza cottura. Di là vedremo il Cristo, lo stesso Cristo che si è rotto prima, così vedete bene le fasi di tratteggio. Quindi fino a che non l'hanno fatta e non si è più rotta e è arrivata in America. Venivano considerate turisti a vederlo in continuazione, anche mentre c'era la lavorazione, perché cinque anni, dal 1925 al 1930, insomma, ci vuole molto. Ma vederlo nel tavolo luminoso non è la stessa cosa, perché in orizzontale non è la stessa prospettiva, quindi per il nostro tipo di pittura non è adatto. Il mistery tonconobbe le zia attraverso le vetrate di Santa Chiara, ma vide anche il cenacolo che si stava deteriorando a Milano. Quindi era preoccupato per noi, era preoccupato che si perdesse, dopo hanno trovato il modo di fissarlo. Essendo un dipinto murale non un affresco, c'era questo problema, già la parte dei piedi era una scomparsa. E allora lui ebbe quest'idea. Naturalmente le zie dovettero studiare bene la posizione dei corpi per rifare la parte sottostante. In passato delle colate di cera le facevano, ma Moretti studiò proprio questa ricetta per fare dei fili di cera in maniera tale che si riuscisse a contornare tutto il vetro e potesse stare più a lungo in verticale la vetrata. Ogni tanto crolla qualche pezzo, se la cera non ha attaccato bene, se è troppo caldo. Questo perché? Perché il nostro tipo di pittura è a tratteggio, quindi ci vuole molto tempo, non è la classica pittura medio-ovale che si fa normalmente, o comunque che fanno gli altri laboratori, ha bisogno di molto tempo e di avere una visione come se il vetro fosse una tela. Abbiamo bisogno del cavalletto come una tela, come facevano i rinascimentali. Infatti Francesco Moretti adorava il Perugino, il Pinto Ricchio. È una pittura particolare che dà la possibilità di rifare dei quadri, poi dopo si devono sempre adattare al fatto che sono vetrate. Adesso li sto ripulendo un pochino, perché dopo averli tagliati, i pezzi di vetro, li abbiamo sabbiati e sicuramente lavati, ma è rimasto qualche sporco di sabbia. Andiamo a vedere la sorpresa. Qualche volta abbiamo bisogno anche di avere dei cerini doppi. Poi si fa scorrere su questo ferro, però neanche tanto, perché sennò togli troppa cera. Questo è uno dei passaggi che faccio fare anche qualche volta ai miei nipoti, l'ho fatto fare. È vero che è lungo, però non è troppo pericoloso. Se non stai attento, tu stioni le mani con la cera. Quando è un po' più abbondante, è più facile. Poi faccio fare anche ai bambini qualche volta cercare il posto per i vetri, come abbiamo fatto prima, ricreare il puzzle, che in realtà quando sono tanti pezzi è noiosissimo, perché non finisci mai. Penso a quelle vetrate enormi, tipo la Saint-Chapelle, ritrovare tutti quei pezzi, la posizione di tutti quei pezzi, quando li sposti. Adesso aspettiamo che questi forse già sono pronti. Ci vuoi fare lo scotch? Ce l'hai lo scotch? Allora, spesso i ragazzi quando vengono, facciamo dai bambini di 5 anni, la prima cosa che ti dicono è 3D, è 3D. Chi la vede, la prima cosa, l'impressione è questa sensazione di tridimensionalità che ha. Devo dire che Francesco è stato bravo nel riuscire a trasmettere questo. E non è facile il suo vetro. Chi dipinge il suo vetro si rende conto. Ma penso anche chi non è abituato a dipingere. Allora, lo tengo io. Andiamo tutti qui a destra perché la viesce meglio. Adesso ce l'ho appoggiato perché... Allora, mettiamo un attimo qui a destra. Quindi adesso noi attacchiamo il foglio, poi mettiamo in cera. Ripeto, questo in genere si fa in orizzontale, però essendo questo veramente un telaio pesantissimo, cerchiamo a farlo. Dobbiamo sempre dipendere da qualcuno, due uomini, quando è il momento giusto. Allora chiama quello, chiama quell'altro. Allora abbiamo imparato un po' a farlo in verticale. La partenza è molto più difficile perché non stai comodo. Qui è sporco. Cioè hai ripassato l'alcol comodo? Non passa. Guarda che mi si è un po' spostato, riguardalo. Lo tieni? Sì. Un po' riguardalo perché un po' mi si è spostato di nuovo. Lo toglierlo col penarello o me lo vorrei? Riguardo qua su, mamma. Sì, poi secondo come... Sì, dritta per dritta, guardalo. Mi pare che vado a me. Guarda che sposti tutta la velocità del fungo. È calato troppo. Eppure quella è giusta? La toglierò, mamma. Il penarello, anche se non mi importa. Bene, allora mi serve il nuovo scerino. Tanto è importante che, capito, vada in linea. Allora prima finisci. Eh, ma tieni questi. Sì. Non sarai tanto di male. Questo lo fece Francesco Moretti nel 1881, proprio per dimostrare l'unicità e la potenza anche, potrei dire, del vetro. E portò quest'opera a delle esposizioni. La fece per se stesso e per la gente, per dimostrare quello che vi ho detto prima. E la portò a Londra, Roma e Milano. E questa è la regina Margherita di Savoia, quella della pizza Margherita. Così si ricorda bene. Quando la regina la vide, l'opera, la vide a Roma e poi a Milano, pensò di comprarla, questo quadro. Pensò di comprare questo quadro. Però scoppiò al Corera Napoli. E lei, essendo molto vicina al popolo napoletano, si diresse tutta la sua attenzione, anche economica, verso la città napoletana. E noi non abbiamo più sentito parlare, noi, dall'archivio, non risulta più niente. Io non ero ancora nata. E quindi è rimasta sempre qui. Ce l'hanno richiesta al Quirinale, nei 150 anni, quando hanno festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia. E per lì arrivò la chiamata. Mi ricordo proprio, io emozionato. Oddio, nonna, ce l'hanno chiesta al Quirinale. Non valutando tutti i rischi. Ma appena arrivata questa notizia, la mia nonna, la nonna ha detto, finché son viva io, quella non si sposta. Piano piano, una volta messi i primi. La cosa, questo va un po' fino. Vorrebbe essere facile. Ah, no, ci sono arrivato. Ci metto un pezzino. Non fa niente. Lascio? Sì. Per l'altro, il posizionamento. Sì, ma quando hai fatto un pezzo, non è. E dopo ci saranno le varie, di nuovo la cottura, poi di nuovo la pittura, almeno tre volte credo che la dipingeremo, questa perché la vogliono proprio tradizionale questa. Quindi dobbiamo fare con tutto il metodo tradizionale. E dopo c'è la trafilatura. Dopo noi mettiamo, questo è tra due vetri, no? Sì. È il telaio, scusate se qua c'è il telaio. E poi faremo un mastici che va nell'intercapellini, quindi la sporcheremo sul dietro, tutta di nero. Sono due pannelli poi questi. Ah, che tonta. Adesso noi qui lo dobbiamo considerare questo. E beh. Certo. Questa è la temperatura sul retro, che noi qui abbiamo due pannelli piccoli, non metteremo. Questa è la temperatura sul retro, che noi qui abbiamo due pannelli piccoli, non metteremo le pannelli piccoli, non metteremo le pannelli piccoli, non metteremo le pannelli piccoli. Nel momento in cui l'avessi dovuta portare al Quirinale, avrei dovuto smontare l'intelaiatura, restaurare una rottura che c'è lassù, piccolissima, che voi neanche vedete. Ma nel momento in cui tu smonti una vetrata, rischi, no? E comunque la devi restaurare. E allora forse si vede più l'incollaggio che... Passa un pochino di luce. Sì, passa un pochino di luce. Ma a parte che qualche volta con i piombi, se stai in una certa ora del giorno, si vede anche qualche lucina attraverso i piombi. Ma lì vogliamo proprio demolirlo, se vogliamo trovare il difetto. Ma ecco, questa rottura avrebbe portato, creato dei problemi. Sì, però vedi, anche qui è perfetto. Io non capisco perché si ha calato così tanto. Sì, noi facciamo un calcolo con la trafila. Il cerino è un pochino più spesso, quindi quando si mette in cera lievita sempre un pochino. Quando avremo cotto, sulla seconda pittura, daremo una velatura di celeste. Però ci sono poi dei colori, come per esempio il giallo, che quando lo metti da fresco, diciamo, non cotto, sono un po' marroncino, un giallo un po' sporco. Poi invece quando lo cuoci diventa un giallo luminoso. Il problema più grande è sui visi, i porpora, perché vengono quelli di oggi non belli come quelli di una volta. Forse ne ho trovato adesso uno che è migliore, perché fanno le chiazze, cioè sbucano troppo, fanno passare troppo violentemente la luce. Questi sono tutti colori mezzi, trasparenti, cioè vuol dire che fanno passare luce, perché se no non vedremmo niente. Queste sono tutte le divisioni, guardate quanto sono grandi, da questo da sotto il braccio fino a in cima alla testa, rischiose sicuramente, anche a 90 gradi qua. Poi anche tenerle in mano per tagliarlo e fare questi movimenti così, non è ondulatori, non è facile, ma non mettere il piombo così fino, questo piombo è molto morbido, quindi passare questo piombo non è difficile. Il problema è tagliarlo. Questo piombo è molto fino, quindi se non avesse quella struttura di ferro dietro, la vetrata sicuramente si piegherebbe. Io sono un po' più precisina della mamma. Dovrebbe andare anche perché lo può sopra. Il colore pittura non predomina mai sul colore vetro, tanto è vero che qui è dovuto partire da un bianco perché se fosse partito da un celeste il bianco non sarebbe mai venuto. Allora, qui però noi vediamo un giallo su un rosso che si vede benissimo. Come mai? Perché questo è un vetro placcato, cioè a due strati, c'erano anche a tre strati, che vuol dire che io compro il vetro, lo vedo, lo compro, è rosso. Poi, in realtà, se lo vedo in trallice, vedo uno strato rosso, poi uno strato, per esempio, giallo e uno strato bianco. Quindi, come si lavorava? Si metteva della carta a coprire dove volevo che rimanesse rosso. Si intagliava, quindi, e poi si sparava della sabbia e veniva, in questo caso è a due strati, viene fuori il bianco, sul bianco viene bene il giallo e quindi si è dipinto il fiore, chiamiamolo foglia così, con il fregio, con il giallo. Così, che cosa succede? Puoi evitare di mettere il piombo. L'oro e l'argento non ci sono nei colori che avete visto nella stanza di là. Perché sarebbero coprenti? Noi, quando prendiamo un bicchiere che ha l'oro, è un oro coprente che non passa luce. Quindi, come ha fatto a fare quest'oro? Ha sfruttato la finestra, la luce della finestra che è dietro, quindi qui c'è il punto luce, ha messo ovviamente il giallo e poi qui tutto a puntini di porpora, marrone, sì, bruno, nero, blu, tutta a puntina, ha creato l'ombra. Ecco. 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 quando ci dicono quanto ci vuole beh un po' si vede la cosa è lunga anche perché questo che si vede questa forza adesso magari più questo più forte il nero sbiadirà nella cottura per fare questo aveva bisogno di molti colori che faceva da solo dagli ossidi li richiavava quindi dalle pietre e quelli vedete sono libri di chimica dell'epoca e anche c'è un libro di alchimia del 600 quello in alto a destra quindi studiava al più possibile e considerate che loro avevano una preparazione ottimale all'Accademia di Belle Arti c'era anche il corso di capomastro dove insegnavano anche a costruire le cose per esempio questo forno lo costruì Francesco Moretti studiando i testi antichi per creare un miscuio che si chiama fondente che va unito a quei colori allora quelli sono pigmenti ma se io uso quei pigmenti su vetro e poi metto il mio pezzo di vetro a cuocere si volatilizzano mmm delicato delicato il paesaggio vedi tutto scuro i paesaggi poi sveliranno cambieranno un po' Grazie. 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 Si apre la valvola così lentamente passa il fuoco, fino a che dopo cinque ore le polveri diventano liquide, si prende il crogiolo con queste pinze, si versa qui il liquido, con l'escursione termica il liquido diventa solido, quindi diventa e ritorna a vetro. Questa è la cosiddetta fritta, è un termine proprio del gergo, anche nella ceramica si usa questo termine. Mamma mia, dopo il bianco. Dopo ce ne freghiamo anche, ci ho andato un po' più in giù. Qui è più lungo il bianco, ora dopo bisogna rimaneggiarli. E se tu ripensi come era prima, è cambiato un sacco adesso. Mi ha detto che vada bene, ma insomma, è cambiato un po'. E dopo sicuramente prendi il via e vai più veloce, ripeto, anche se stai nella fase della... Quando inizio a dipingere, dopo che sei stata ferma, è tremendo. Ma adesso oggi è una cosa da giornata buona, perché ci spada un po', quando dipingi poi ti vede suonano, poi dico, è tremendo. Poi si solidifica, si mette la fritta in questo mortaio che è di porfido, quindi un materiale molto duro, e si macina. C'era questo coperchio così potevano far saltare tutto quanto. E si macina fino ad ottenere questa polvere bianca. Ovviamente ne facevano un po', e poi la mischiavano a occhio, si mischia con l'esperienza, con alcuni colori, si scioglie tutto con la trementina e poi si dipinge. E le prove di colore le metto qui insieme, eh mamma? Insomma gli altri. Eh, la prendo meglio di qua se cade, eh? Ok. Ecco. Questo lavoro andrebbe fatto in orizzontale, ti l'ho già spiegato, eh? Non so. Ma perché non sarà il momento di fragiare? Perché a me l'ho accorto. Non si vede nulla la trasparenza, si è appriciccato la cosa. Ma col dito non viene via? Non viene via, ma l'ho già provato, per carità, tu sei pericolosa. Dopo ricominci dal capo. Sono le cinque? No. Ancora non hanno suonato le patrine. Sì, è vero mamma, potremmo andare avanti però. Ma quando c'ho le visite guidate, cinque, sei, sette, c'ho le visite guidate. Ma se tu mi dai anche la miniatura posso andare avanti anche in quella. Sì, 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 una ne fai tu, una ne faccio io, sennò. E poi si cuoce in un altro forno che vedremo, sempre costruito dal Moretti. La fece perché il comune di Perugia richiese di partecipare a un'esposizione universale a Parigi. E quindi lui andò con quest'opera, è un'interpretazione di un quadro del Perugino che è la Galleria Nazionale. Infatti proprio si vede che i visi sono del Perugino. E qui vedete anche qui la pelle, il blu e il rosso sono placcati, i vetri placcati. Le ombre sono nere, vedete, quindi parliamo di grisaia. Però data a tratteggio. E questo qui è tutto colore riportato a tratteggio. Non sapete quanto ci possa volere. Poi dopo io non lo so, lui era un genio. Allora, praticamente è sbiadita, no? Comunque prima di farla bisogna dare questo celeste dietro. Sì, bisogna... Scusate, no, ma è leggerissimo. L'ho capito, ma non importa. Quello è un quadro che tu vedi da vicino, su un corridoio che sta manco a un metro e mezzo. Sì, questo è. Eh, questa va in alto, in alto lassù, allora fanno già, vai. Sembra solo sporco. Sulla terza, la terza pittura dovrò rinforzare il colore, perché comunque si sbiadirà ancora. Quindi, anche se questa volta non si è sbiadita tantissimo, per fortuna, però c'è da fare. Bisogna rinforzare e andare tra un trattino e l'altro, perché devo omogenizzare tutto. Sto preparando il blu, questo è un blu medio. Un blu un po' scuro, perché è venuto come volevamo, è un bel azzurro, però ci vuole anche una parte più in alto, più scura. Quando si asciuga, poi si ingrassa troppo, quindi è sempre bene farne un po' per volta. Allora, adesso prima, ho messo la trementina, ho una messenza ricavata dalle piante, e poi col pestellino bisogna togliere tutti i grumi, perché più liscio diventa, ovviamente meglio è e dura anche di più. E quindi è tutto un mix di fattori per trovare la situazione migliore per poter dipingere, quindi il colore con la giusta densità. E adesso, ecco, lo do un po' qui, ho quasi tutto il cielo, ma non forza tutto. Tutto questo era un modo diverso di dare la velatura. E eccoci, questo era Lodovico Casalli, le due zie, Francesco, In genere chi scopre per la prima volta il piombo tende a volerlo girare, perché è curioso di vedere che si muove e che è malleabile. Ma più dritto sta invece meglio è, perché così riusciamo a incastrare bene il vetro. Se è solamente un pochino storto abbiamo dei problemi e dopo non si incastra bene anche quell'altro. Adesso ne taglierò un pezzo di trafila perché... ... 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